di anteprima sport. Torniamo ancora a parlare di prima categoria con Gianfranco Totti, questa situazione un po' delicata del Selci, tu che sei stato dirigente, giocatore, allenatore del Selci per anni, quindi sei sempre rimasto vicino, col cuore possiamo dire. Rimango male nell'aver saputo questa situazione perché ci tenevo che questa squadra potesse risalire velocemente. Chiaramente i risultati le squadre non li ottengono se dietro non c'è una società quadrata. Questi movimenti veloci, senza pazienza, senza aspettare un attimino di assestare le cose, soltanto alla seconda giornata, un po' mi prendono di sorpresa. Chiaramente la società avrà avuto le sue motivazioni se ha messo di fronte a certe problematiche la squadra, io penso, no? Gianfranco. Questo certamente, però sono specialmente ancora dentro, siamo ancora dentro il primo mese di campionato, quindi è sicuramente auspicabile che il tutto venisse risolto dentro ai quattro muri degli spogliatoi o della società. Ritorniamo sempre a parlare, tu sei andato vicino a allenare il Selci con un contatto che si è portato avanti per diverso tempo con un amico che è Fabio Matteaggi, no? Direttore sportivo dei Rossoneri. Ma sicuramente, ormai ne abbiamo parlato tante volte. Ne abbiamo parlato tante volte. Però è logico pensare che una situazione del genere si verifica solo quando la società in effetti è una società inesperta perché non si può pensare di mettersi contro i giocatori prendendo dei provvedimenti dopo la seconda partita di un campionato che ancora è tutto da giocare. Soprattutto poi, considerando il fatto che il Selci non ha la Juniors e quindi c'è bisogno dei giocatori per andare a giocare, non si può pensare di prendere un provvedimento come quello di tagliare i rimborsi spese dopo due domeniche di campionato e quindi soprassedere, cercare di fare blocco unico con i giocatori, cercando di vedere dove sono i problemi e cercare di risolverli. Ma se ad un certo momento viene fuori un muro contro muro fra giocatori e società è evidente che chi ci rimette è la società in questo momento. Ecco, noi andiamo in onda.